A me non piace correre. Fa piacere per Nietzsche che corre, io proprio non sono... Napoli è la culla del cinema, del teatro. Carmine all'inizio non era un bello. Cosa c'era prima del rap nelle vostre vite? Se mi fai partire su questa cosa, già vedo il meno. Allora, io sarei voluto nascere negli anni cinquanta per avere vent'anni e negli anni settanta. Ho sempre detto. Però colmano un vuoto, quella voglia di rock. Grazie. 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 Grazie.